Ok, dovremmo esserci, aspetta che mi da encoding overloaded e poi una volta finito quello possiamo anche avviare la registrazione con lo schermo a colori, tipo così, salve, ecco adesso siamo sicuri che funziona tutto perché l'hard disk ha iniziato a registrare, quindi un benvenuto a tutti in questo simpatico episodio in compagnia del signor Wimbor che si sta dirigendo amichevolmente o cattivamente verso casa mia e delle mie cazzate che faccio come al solito, saltella, 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 occhio al sabbia mobile No, non ci sono, è una cosa per il culo Ah ok Pensavo dicessi tipo ah un buco e invece no Non volevo dire, non ci ho ripensato, guarda Comunque, siamo qui riuniti con il signor Wimbor oide Seriamente Ma che cazzo, non l'ho fatto io No, è naturale credo Ok Siamo qua oggi riuniti col signor Wimbor per fare cose, persone, cosa? Mi stavano sparando Ah, come ti fanno a spararti che è giorno, scusa? Perché ero in un buco Ah, perché come tutti sanno quando si entra in un buco la gente ti spara, no? Eh beh, eh beh È una cosa standard in Minecraft Comunque A parte Wimbor che sta, penso a sto punto, morendo male in un buco Noi oggi siamo qua per elencare un paio di cose Allora, prima di tutto Vi vorrei elencare tutte le puttanate che ho fatto mentre non ero online O robe del genere Dunque Eh, più che altro perché non mi ricordo cosa ho fatto, quindi facciamo un rapido riassunto Allora, io ho, avevo fatto, all'epoca che fu, i, ehm, questi qua, i termo electric generator E, ehm, al contrario di, ehm, dei due culi di cui uno qua presente è in TS Ehm, non c'è blue No, ehm, i due culi intendevo te e zeta Ah, ma Perché voi avete fatto il termo electric generator con, ehm, l'enderium e dall'altra parte l'acqua, penso? Ehm, la lava L'enderium è freddo Ah, ok, allora ho invertito io le cose Da una parte ha messo la lava, dall'altra ha messo l'enderium Come avete visto nei precedenti episodi Io ho amichevolmente brutalizzato la cosa mettendo il criotium e il pirotium dall'altra parte Con quale cattiveria me lo stai dicendo? Eh, con una cattiveria tale da poterti, tra virgolette, rinfacciare il fatto che produco quasi 10.000 RF al secondo Cosa? I? No, me lo devi dire a TIC perché se no non vale Eh, a TIC non lo so, non ho ancora il misuratore di corrente, devo un attimo poi graftarmelo E poi in combinazione adesso ho tutte le batterie piene e i macchinari carichi di corrente quindi non saprei dietro Tutte scuse, tutte scuse In realtà sono 15 RF per TIC come nei peggiori negozi della Finlandia Ma cosa c'entra la Finlandia adesso? Non so, non mi veniva come chiudere la frase quindi chiamiamo in causa dei finlandesi Ok, grazie, ringraziare i finlandesi per essersi sottoposti alla tortura di Vimbor Comunque a parte le cazzate abbiamo fatto Eh? Non ho torturato nessuno però Sì, sì, dicono tutti Inizio a vederti in alto a destra che compare nella mappa comunque Sto arrivando Vedo delle mura Sì, un accenno di mura, poi dobbiamo ancora completarle È un po' mimetica per il momento in parte Infatti ma è la mia intenzione di farle mimetica come mi ha suggerito un mio iscritto nel... In qualche episodio fa tipo in 4 o 5 Però ci stai riuscendo Ma adesso no, quando poi sarà più alto sarà peggio Comunque dicevamo Ciao Vimbor Ah, ecco, ne hai fatti la bellezza di 6, 7 Non lo so, non li ho contati 1, 2, 3, 4, 5 Mi hanno insieme a 6 A me pure Però posso amicovolmente mettere già volendo il settimo L'ottavo E forse per un... V riesco a mettere anche il nono Quindi abbondanza, signori, abbondanza Non lo so, ma Z ha anticipato Nel senso che vicino alla Skiller Noi abbiamo una scorta di questi motori Quindi non è che abbiamo solo quei due che hai visto tu Sì, ma la cosa non è che mi tocca Comunque per il momento C'è la più grosso No, ma non volevo fare la sfida a chi c'è la più grosso Cioè, la massima a chi ha più corrente Ma quello è un altro discorso Dissevamo Noi abbiamo fatto l'aggiornamento Spero di... Non mi ricordo se l'ho registrato o meno Quindi vi doverdico Con i Hardened Flux Look E le Hardened Select Cioè, una ne ho per adesso Tutti gli altri macchinari Sono tutti basic Non ho fatto niente di che Il fluid transposer Il magma crossable L'avete già visti E' bello la neve nel deserto, eh What? La neve nel deserto Eh, è fichissima E' molto naturale Mi sembra che alla Abu Dhabi Abbiamo fatto una troiata di sto genere Un po' un anno Qualche anno fa, eh E' là c'è noi i soldi Possono permetterci Noi qua invece ci teniamo Vimbor I suoi amici terrori Eh già Comunque C'è l'induction smelter Che mi sembra di aver fatto vedere Perché mi serviva L'Energetic Infuser È una cosa abbastanza recente Che vi faccio vedere Rapidamente Energetic Energetic Sono un genio Eh No, è un Energetic Infuser Facciamo vedere agli utenti Come funziona Apri l'interfaccia, va? Eh, aspetta Che stiamo facendo Del primer crafting Che si fa Con due rondelle di copper Eh, una reazione Si è più un coi Che è quella con il Il gold al centro E i due redstone ai lati E le Transmission coi Che sono silver al centro E i due redstone ai lati E ovviamente una Lidstone Energy cell frame All'in alto Eh Dov'è che sei? Prego Perfetto E Vimbor Si sta ciucciando brutalmente La corrente dal mio coso Bravo Sì perché questo Oggetto Fa che è una merda Da qua a casa mia L'ho consumato praticamente Capisco Capisco E comunque Vorrei farti notare Che la batteria Non ha Risentito Della tua Sono 50 krf Figurati Fesseria Non sono 8000 Vabbè però Scusami 8000 O 80000 Ero al 20% Quindi saranno stati 60 Tipo Vabbè scaricano Quello un po' Poi vabbè Il pulverizer Che dovrei averlo Già avuto attivo L'altra volta E l'ultima cosa Che ho fatto Che è una stupidata Perché si fa Con due cazzatine È la Redstone furnace Che dovrei usare Per ottenere Quello che Vimbor Mi sta per chiedere Ovvero Lo shiny Eingot Perché devo andare A caccia Di Ferrous Vi spiego Anche il perché Devo andare A caccia Di Shiny Eingot Perché Con la mia Furbatta Geniale Sono andato A pescare Nella Praticamente Dietro casa Di Vimbor E company C'è una Simpatica Foresta Forestosa Dove si trovano I Dei laghetti Di Ender Praticamente Come si chiama Ender Per sciolta Come cazzo si chiama Enderium Chiamalo Enderium E io Per fare la mia Troiata del secolo Che adesso vi devo Ancora illuminare Sono andato a pescare Qua dentro Quei laghetti Col mio Portable tank Solo che ho fatto La cazzata Ho fatto Mali conti E quindi Ho buttato Dentro la smeltery Un tot Di Enderium Con Adesso vi faccio Vi spiego anche Il perché Vedete che ho L'Enderium Ingot In mano Do per Sipe Aspettate Ve lo faccio Vedere Subito Dov'è Eccolo qua Molte Enderium Ecco Vedete Il resto L'entender Che è quello Che sono andato a pescare Lo devo mischiare Insieme Allo shiny Al tin E al silver Il problema Principale E' stato Questo Che Facendo il calcolo Delle proporzioni Ci ho buttato Praticamente dentro Tutto il Molto in shiny Che avevo Perché ho detto Con quel poco shiny Che ho Che ne avevo Stando mi sembra 4 lingotti O una cosa del genere Non riesco a fare Nemmeno tutto Il landerium Che mi serve E invece No Avevo quattro pezzi Li ho presi di colpo Li ho buttati Nella cosa Niente shift click Purtroppo Fosse stato shift click E dico Ok Sono coglione Io Ma invece Purtroppo Sono coglione Due volte Perché ho sbagliato A fare i conti Ecco Con i Billy Buckley Purtroppo Capita così Alle volte Quindi Tante bestemmi Comunque Detto questo Adesso Praticamente Io mi ritrovo Non che mi servisse Subito Lo shiny Eingot Però Dato che Purtroppo Il signor Vimbor Gli serveva Lo shiny Farò che Omaggiarlo Visto anche La sua presenza Nel video Di Quanti Ne serviva Scusami Mi servono Tre In serio Mono Di shiny Comunque Vado a rispondere Al telefono Arrivo Addio Vimbor Addio Intanto Vimbor Domme per terra Comunque Poi daremo Anche a Vimbor La sua parte Di Enderio Wingot Comunque Per la cronaca Per andare a fare Le cose concrete Mentre Vimbor Parla cellulare Vi posso Amicavolmente Illuminare Che Aia Ah si Ho una pianticella Di coso Che punge Vi posso Amicavolmente Illuminare Che Con questi Enderio Wingot Andremo A fare Così Pronto Grazie Andremo A fare Ho sbagliato A cliccare Devo fare Con la U Di usage Non la Resonant Perché Per il momento Non ci serve Ed è troppo Grossa Ma andremo A fare Dovrebbe esserci Da qualche parte Eccola Qui Il Tesseract Frame Il famosissimo Tesseract Frame Che si fa Con il Blast Glass O Larned Glass Larned Glass È Abbastanza Una cosa Semplice Relativamente Semplice Si fa Con il Piombo E Il Pulverized Obsidian L'ossidiana Siamo andati A pescarla Ieri sera A casa Di Vimbor Z Che Hanno Praticamente Una farm Pseudo Infinita Di Fottuto La loro Ossidiana Adesso Teniamo un attimo Che si Macere il tutto Dunque Sono 4 Di Ossidiana Vediamo un attimo Con Allora Devo metterla Nel Dov'è Nell'induction Smelter Con il Piombo Che ovviamente Dimentico In giro Per casa Ma sono sicuro Di avercelo Qua Piombo Dovrebbe essere 2 Di Piombo E dovrebbe Darci 4 Li Vetri Adesso Vediamo subito Quanti ce ne da Pronti Dai che ce la fai 2 E 2 4 Ok Quindi mi servono Ancora esattamente Altri 2 pezzi Di coso Allora 2 pezzi Di piombo E 2 Di Ossidiana 2 Di piombo Non mi corre Più il personaggio L'ossidiana L'avevo lasciata Qua dentro Sì Corri Lagazzo Laggiù Papara Se si muovesse Intanto Vimper L'abbiamo perso Nei meandri Del cellularesimo Che è la famosissima Corrente Letteraria Del cellulare E Ok Perfetto Do sta Questa Questa Più questa Perfetto Allora Gli Arned glass Stavamo dicendo Dove stai Dove stai Tesseract Tesseract Eccoti qua Allora L'ending wing Ce l'abbiamo Ci manca Il diamante Che ce l'abbiamo In casa E poi dobbiamo Fare un giro Dentro al Fluid Transpuser Allora 8 di Arned Ce l'abbiamo Poi Andiamo a Craftare Con la K Il nostro Frame Di Tesseract Quindi sono 1 2 1 2 1 2 1 2 Poi qua Sono 2 2 2 E 2 Diamanti Che dovrebbero Essere Tipo qua Dentro La Ok Due Tesseract Frame Che sono Attualmente Vuoti I Tesseract Frame Vuoti Vanno Riempiti Con Fluid Transpuser Con 1000 Ressonantender Ressonantender Che come avete visto Ce l'abbiamo Già di là Quindi ci Trasoriamo Di nuovo Fuori Se qualcuno Sta per dire Che ho Le cose Lontane Si Poi le Avvicino Allora Adesso dunque Fluid Transpuser Dobbiamo Aspetta Dobbiamo Girarlo In questo Modo In modo Che La roba Dal Secchiello Vada Dentro Al Foil De Transpuser Quindi Facciamo Così Allora Uno E Uno Due Poi Così Perfetto E Così Così abbiamo Due secchielli Qua dentro Di Coso Poi Rigiriamo Il Verso E ci Buttiamo Dentro I due Tesseract Si Ecco Una cosa Ci mette Un pelino A farlo Perché Non lo so C'ha i suoi Cazzi I suoi Mazzi Intanto Possiamo Anche Intanto Possiamo notare Che la corrente Stranamente Non scende Un attimo Solo Ok Tesseract Frame Full Uno Adesso Arriva Il secondo Sempre Con molta Calma Mentre Vimbor E' tornato Fra noi E' tornato Nel mondo Del E' abbandonato Il cellularesimo Come religione Era proprio Il telefono Di casa Se no Potevo pure Rimandare Va beh Era per fare Lo spesso Ok Era per dire Che No Vado al telefono Va bene Tu puzzi E quindi Me ne sono andato Ciao Comunque A parte Vimbor Che dice Che io Puzzo Quando non sa Ancora Che Blueparo Sciocca un culo Possiamo Utilizzare Il nostro Simpatico Tesseract Full Con 4 Di Silver E Cos'è No Scusate 4 più 4 Sono già 8 di Silver E 8 di Bronzo Quindi Il Silver Una volta Avevo Della roba Qui in Casa No Piombo Iron Steel Niente E Invece Di qua Dovrei avere Qualcosa in più Allora Ah Silver 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 13 13 13 12 12 10 12 12 12 13 14 13 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 come si faceva a rendere privato il tesseract bella domanda con evitare che di avere casino con le inter le frequenze o segnalo un qualcosa mi piace allora vediamo subito ok abbiamo il segnale un nugget e il segnale un secolo di loc partiamo dal posto posto di serve del bronzo ma la cosa non ci tocca il segnale un nugget si fa col segnale mingo ovviamente il segnale mingo si fa con il segnale un blend il segnale un blend si fa con tuttana bastarda con la destabilized redstone il silver copper copper e copper quindi sono tre di copper uno di silver e la destabilized tua mamma redstone c'è un altro modo per farlo più semplice di un po conosco questo poi forse la smetteri aiuta in qualche età e forse la smelta di brutto in questo caso ho già fatto un giro non sembra essere molto d'aiuto purtroppo quindi noi con molta cattiveria e tanta vaselina andremo a prendere quel poco di redstone che ci avanza perché voi dovete anche sapere che mentre vimbo rezzetta l'altro giorno che era cos'è l'undici venerdì 11 alla sera giusto tipo ieri sera si esatto venerdì 11 stavano registrando cose mentre lo registravano io zitto zitto tranquillo tranquillo 4 4 mi sono fatto due cose una si chiama gonzalez e l'altra si chiama indurentoso per vimbo dedicato no perché se ti do in mano indurentoso rischio di morirci ma massimo a massimo posto d'arte gonzalez basta qua non dai i bordi che vengo già fai e chi ha c'è qualcuno non spaccare in casa che ti mangia la mamma vai tranquillo non ci hai messo nemmeno fortuna ancora vabbè ma infatti non è mia intenzione mettercela salve 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 ecco allora non mi sembra già il mio shiny non trovo manco dato perché l'ho usato il novembro se devi chiudere le porte si fa bene così vedi che c'è il signor z che insomma è un po culo quindi si ritiene le cose è già tanto è già tanto che l'altra sera quando avete fatto il kart che ovviamente obbligo alla gente di andare a vedere il video in cui fanno il kart che lo craftano in due ore e trenta minuti di vita reale era due ore no ma chi se ne frega dei secondi vimbo dei secondi sono omaggio della ditta sua anche te e non mi ricordo cosa stavo dicendo prova bene lo stesso giusto di andare a vedere con il simpatico kart che hanno fatto vimbo e z che l'hanno fatto tra virgolette l'hanno serve a tutti però l'hanno fatto per me perché io sono uno stronzo che voleva scavarsi in galleria a mano e invece vimbo ha detto ma no dai ti do una mano ti faccio il kart detto prego vimbo dietro vadi contessa vadi ma un po più centrale te lo dì in testa bravo vimbo si fa così che si fa dai vimbo dove siete di grazia a casa mia a casa tua at the castle cioè cascast la merda per adesso vadi avanti signora si si giusto c'era gioccia ragione anche lei contessa dicevamo il famosissimo signalum che non mi ricordo ci serve la redstone che c'erano in buscata quella qualche parte la redstone però non mi ricordo una cosa quanto da di nel ecco nel magma crucible la redstone 100 così a occhio e se fosse 200 no 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 fidati ma una quando si quando si 100 100 si ricorda una cosa se la ricorda non è come dire che quando si ricorda una cosa fa finta di ricordarsela allora di siano sono 5 6 7 8 più 8 più no 10 sono 11 quindi devo fare tre lingotti di signalum se non ho fatto mai i conti quindi sono 30 di redstone da usare di cattiveria e mentre la redstone viene usata di cattiveria mentre vado a fare un giretto qua dietro vediamo il cazzo che ti pare intanto non succede assolutamente niente se fai un giro di vicino da casa mia fai come se fosse a casa sua si esatto ma devo andare a prendere tre pezzi di coppere uno di silver che cazzo che era o tra di coppere uno di coppere mi sembra segnalo un daico qui c'è una povera pecora affogata nell'olio nell'olio è diventata grigia tra parentesi e dietro a ma cazzo ma potevo metterla nella smeltere mi l'ho saltato un passaggio allora troppo e di chi devo interrompere perché ho trovato una strutturina di quelle dell'ata 20 metri da casa tua più o meno ma dove scusa sulle montagne dietro casa tua direzione cos'è direzione est vabbè facciamo che no l'ho vista l'ho vista l'ho vista l'ho vista l'ho vista l'ho vista qual è il problema io fai cazzo che vuoi allora dunque silver 1 2 3 4 6 questo diventano no e cosa quante è magnificente questo vulcano che c'è vicino è bello è proprio bello quindi io faccio così ok perfetto il coppere mi rimane vecchio perché merda tre anni per arrivare a casa tua vecchio di merda comunque ok ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce la stiamo facendo non ce la faremo mai vedo delle mura alle mura vedo nikimoto non è vero e invece sì non è vero io no signore il signore che vuoto non è in casa presto da che parte si è entrato guarda io volo ma ma la ricina che morirò qua dentro ho fatto ho fatto la troiata di prima bimbo l'ho fatto ho fatto ho fatto troppo signale l'ho fatto ti serviva il cristallo di solito la cromatica stanno faccio io guarda tutte le luci gesto cosa il cristallo nero nero e che stanno di mappa si per fare così capisci ma e no no non lo so non mi sono avvicinato perché un bellino pericoloso va bene dove sarai questo cristallo nero è un come si chiama un burrone dietro casa di di sempre burrone ma perché insieme a gran sburrone c'è anche sempre un gran fraccio a est a stai io mi sparano ciao mi vuole c'è un piacere di conosciuto non sono vivo ok no niente vabbè ti devi decidere in voglia di aiutare magari ci moriamo perché è morto con un colpo solo se si dicono tutti così via 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 ma basta vivo che cazzo qualcosa mi dice che c'è lo spona ecco io devo prendermi il bronzo e poi ho finito così chiudiamo l'episodio non aggra non aggra non aggra non aggra temi genti vicino a casa che non ci voglio poi di combattere abbastanza allora allora potete anche morire male per quanto mi riguarda con al sicuro grazie il burrone allora il cristallo nero ti dico pure dovete vuoi basta che non faccia cose strane ok allora diunque mentre tu dici che il cristallo nero e di qua e di là e di su e di giù io vado a piazzare il mio amico tesseract e voi avete finito di esatto un ero lì grazie ma che da 7 freq metteremo la 69 come set freq si e metteremo energia 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 e querno energia energia qr anche da niente con l'estremo a r y ad freq grazie con la staschina perfetto ok allora io per oggi ho finito cioè per oggi per adesso ho finito poi magari faccio altro lo dico io e basta quindi se il signor z e signor vinbro che stanno girando dintorno di casa mia vogliono salutare siamo impegnati non possiamo grazie l'ho andata a fare incrodo tutti e due ammazzati anche di perfetto ammazziamoci tutti quanti amichevolmente un saluto a tutti e alla prossima morte no si è bruciato il cristo cazzi tuoi chi è che si è bruciato scusa il crystal ha compito il cristo per un attimo è pure io è è altissima 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 Grazie a tutti